Ciao ragazzi, oggi vorrei fare un video tutorial su come caricare le pene roller della Parker. Come sappiamo i refill delle pene roller Parker sono abbastanza costosi, ognuno costa circa 5-6 euro. Io ho trovato un modo per ricaricarle spendendo un decimo di quel prezzo lì. Vediamo come si fa. Incominciamo col dire che il refill ha un taglietto proprio qui sulla punta, vedete, si vede a malapena, però si nota un po'. Questo taglietto ha un buco nella parte finale ed è il buco da dove entra l'aria man mano che andiamo a scrivere, quindi riempie di aria il refill stesso nel frattempo che l'inchiostro esce dalla punta. Quindi quello che noi cercheremo di fare adesso è di reinserire l'inchiostro togliendo l'aria. Cominciamo con la lista del necessario. Bene, abbiamo l'inchiostro, qui ho una boccetta di Pelican 4001 nero, consiglio il Pelican 4001 o il Parker Quink, perché entrambi non hanno dei pigmenti che vanno ad intassare poi la punta del refill. Della carta assorbente, dei guanti per non sporcarci le mani, una siringa che abbiamo preventivamente tagliato. Ecco, io uso questa siringa molto sottile perché è esattamente delle dimensioni poi del refill. E poi la penna di per sé, che è questa qui, dentro c'è il refill che non scrive, infatti se proviamo a scrivere, vedete, è ormai esaurito. E quindi andremo a smontare e tirar fuori il refill. Dunque, cominciamo andando a togliere questo cappuccio qui, terminale del refill. Quello che ora dobbiamo fare sarà di aspirare l'aria dal refill immettendo all'interno l'inchiostro. Come lo faremo? Lo faremo andando a inserire all'interno della siringa, vedete così, finché entra e si va a sigillare del tutto. In questo modo noi andremo ad aspirare l'aria e spingere l'inchiostro. Aspirare l'aria e spingere l'inchiostro. L'importante è che sia ben sigillato, altrimenti rischiamo di far uscire tutto l'inchiostro, impiastricciare tutto. Ora vi faccio vedere come si fa. Apro la boccetta d'inchiostro. Devo aspirare per circa metà o poco più. Quindi aspiro per circa metà. Ok. Vedete? Asciugo. Allora è sporco. Tiro leggermente su affinché si vada a formare una bolla d'aria nella quale andrò a inserire poi il refill. Inserisco il refill. Chiudo come vi dicevo. E adesso comincio a fare il lavoro di aspirare e reinserire l'inchiostro. Quindi aspiro e inserisco. Aspiro e inserisco. Aspiro l'aria e inserisco. Questo lo faccio fin tanto che vedo affiorare bolle, quindi vuol dire che effettivamente c'è ancora aria all'interno del refill. Quando non affiorano più bolle sappiamo che effettivamente questo refill è pieno e quindi non dobbiamo più inserire altro inchiostro. Ora quello che vedete qua sembra inchiostro, in realtà sono tante bollicine nere, sostanzialmente è vuota. Facendo aspira e inserisci abbiamo riempito del tutto la nostra penna, quindi il nostro refill. Ora vado ad aprirlo, esce un pochino ogni tanto per la pressione, asciughiamo il refill. È sempre bene tenere a portata di mano della carta assorbente proprio per questo motivo. Qui buttiamo le ultime due gocce di inchiostro che sono rimaste all'interno della siringa. E vediamo se il refill ora è pronto per scrivere. Sì, assolutamente. Abbiamo ricaricato quindi la cartuccia, il refill, con qualche goccia di inchiostro. Ogni ricarica ci viene a costare molto molto meno di un refill nuovo. Fintanto che la punta regge e quindi non si rovina e scrive bene, come in questo caso, non ha senso buttare dei refill buoni quando possiamo semplicemente ricaricarli. Ripeto, un paio di guanti, una siringa da 30 centesimi tagliata, l'inchiostro e il vecchio refill. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!